Andiamo al segno del Toro, ancora una giornata molto bella, molto interessante, ma del resto questo è un periodo davvero clamoroso per quanto vi riguarda, no? Con tutti questi pianeti nel segno della Vergine vi sentite bene da un punto di vista fisico, avete una grande vitalità, un grande fascino, soprattutto perché questa Venere, che poi è la vostra madre astrologica, in trigono con il vostro segno, è una Venere che vi rende belli, affascinanti, ecco, non passate mai inosservati e questa Luna non fa altro che confermare questa vostra sensualità. Non è una giornata ideale per fare delle spese, perché, insomma, potreste spendere più del dovuto, molto meglio i rapporti personali, i rapporti familiari, i rapporti sentimentali, occhio però a non esagerare con le parole e spesso, devo dire, con le critiche, perché voi del Toro, quando vi ci mettete, sapete essere anche un po' pesanti. Andiamo al segno dei genitori.